Non solo festeggiamenti per la ricorrenza di Santa Barbara, ma anche solidarietà. Per dare un segnale di vicinanza, le famiglie dei tre Vigili del Fuoco caduti nell'Alessandrino che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, spegnendo le fiamme in un cascinale disabitato dove sono stati poi sorpresi da due esplosioni. Una raccolta di fondi è stata organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno che porta a teatro i caschi rossi, le autorità, i cittadini per esprimere solidarietà nei confronti delle famiglie e degli eroi che si sono spenti nel compimento del proprio dovere delle famiglie e del Corpo dei Vigili del Fuoco. Romea e Giulietto, il titolo della commedia in due atti di Gino Cogliandro per la regia di Fabrizio Avallone, messa in scena dalla Compagnia dell'Interno che porterà all'Augusteo i caschi rossi di Salerno. Nell'ambito dei festeggiamenti di Santa Barbara volevamo dare un segnale di vicinanza alle famiglie dei nostri tre colleghi che sono deceduti, Matteo, Antonino e Marco, in occasione purtroppo di quella bruttissima esplosione che c'è stata da Alessandria. Quindi abbiamo colto l'occasione di trovare un momento di incontro sia per tutto il personale presso il Teatro Agusteo dove verrà fatta una commedia e nell'ambito di questa manifestazione fare una raccolta fondi per le famiglie dei deceduti. Io colgo anche l'occasione per ringraziare il Comune che ha patrocinato l'evento e ci ha fornito gratuitamente il teatro e tutti i colleghi e le autorità che interverranno e che sicuramente renderanno importante e prezioso questo momento di incontro. Un momento di solidarietà per le famiglie dei tre Vigili del Fuoco scomparsi ma un momento di unione, di comunità proprio per far sentire il calore del corpo dei Vigili del Fuoco. Sì, questo fa parte un po' del nostro DNA. Noi siamo vicini alla città, alla comunità e siamo molto uniti tra di noi come corpo nazionale. L'evento che può capitare a un nostro collega anche lontano dalla nostra realtà territoriale è sempre un evento che ci tocca personalmente perché il nostro è un lavoro di squadra quindi se un componente della squadra ha un problema o un danno noi gli siamo vicini in tutto e per tutto e cerchiamo di dargli il massimo della collaborazione soprattutto per le famiglie che sono rimaste. Un momento di grande sensibilità anche per i cittadini per ricordare il lavoro e l'impegno dei Vigili del Fuoco tutti i giorni impegnati in diverse emergenze. Sì, il nostro impegno è quotidiano assolutamente però questo di Santa Barbara e del teatro è un momento in cui noi ci fermiamo un attimo per stare insieme e per riconoscere la struttura del nostro corpo, i nostri colleghi, i nostri amici e per salutare la città. Sicuramente ce ne saranno altri magari anche in momenti più allegri però adesso è Santa Barbara ed è il momento di pensare ai nostri amici.